ola playbookers questa volta ci immergiamo nelle gelide profondità della spia russa film del 2016 che ti fa chiedere ma sta nevicando o è la drama che ovviamente sto a scherzare diretto da shamim sarif autrice anche del libro questo film ci porta nell'unione sovietica post staliniana mettendo in scena un waltzer attraverso lo spazio e il tempo ma waltzer non è l'amica russo sono alexander ivanov katia grinkov la storia salta avanti e indietro tra katia nel passato interpretata dalla straordinaria rebecca ferguson e loren sua nipote nel 1992 interpretata invece da rebecca ferguson questo è uno degli unici colpi di scena per un attimo ho pensato cosa? che fosse lei ma questa deve essere katia la trama ci abbiamo katia spia degli americani si avvicina a sasha pezzo grosso vicino al cremlino però niente i due si innamorano pianificano una fuga alla volta degli stati uniti ma katia svanisce nel nulla abbiamo perso i contatti con lei no devo tornare indietro cosa fai? fermi la macchina devo tornare indietro no no alessander fermi la macchina 30 anni dopo sarà loren la nipote a dover ricostruire questo puzzle misterioso ma soprattutto a scoprire che mizzica di fine abbia fatto sua zia tutta la mia famiglia viene da lì tu vieni da lì mio padre viene da lì mia zia katia viene da lì voglio sapere che cosa è successo è successo che siamo andati via da lì già tranne katia cari playbookers questo film sembra pattinare su un listone di ghiaccio veramente sottile però 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 prendiamolo come esercizio andatelo a vedere noterete come i punti più importanti della trama quei punti di svolta cruciali sono già passati e manco ve ne siete accorti e poi lo possiamo dire il doppio ruolo di Rebecca è l'attrattiva principale di questo film soprattutto nel ruolo di katia quella del passato mi posso sbilanciare? e allora vi dico solo una cosa Ingrid Bergman e ho detto tutto se dovessi scegliere qualcos'altro mi piacerebbe cucinare inventare nuovi gusti nuove ricette questo è importante è solo piacere ora film contro il libro vi propongo questo giochino leggete il libro poi tornate qui e vedetevi il film sarà come decidere tra un hamburger gourmet e uno da fast food chiaro entrambi sacrosanti però insomma ti amo Katiuscia ti amo Sasha ricordalo sempre in conclusione nonostante questa benedetta spia russa cerchi di fondere letteratura e cinematografia diciamo che finisce per diventare più un che cosa sarebbe potuto essere piuttosto che un da vedere assolutamente libro interessante cosa ne sa di Katia so qualcosa riguardo alla storia di suo zio non è qui con lei mi scusi è un'intervista sulle mie opere o sulla mia famiglia perché non entrambe